Drastica decisione del Vescovo di Mileto, Nicotera Tropea, Luigi Renzo, diversi di vieti imposti e obbligo di attenersi alle nuove disposizioni per quanto riguarda il culto di Natuzza Evolo. All'indomani della scadenza dell'ultimatum, imposto dal Vescovo riguardo alla riforma dello statuto della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, arrivano le drastiche decisioni prese proprio dal presule nei confronti dell'ente con sede a Paravati. La revoca del decreto di religione e di culto data anni fa dall'allora Vescovo Domenico Cortese, una presa di posizione drastica che fa sì che all'interno della Fondazione sia da oggi stesso vietato. Organizzare pubbliche attività di religione e di culto di qualsiasi natura dentro e fuori la sede, di utilizzare per qualsiasi attività di pastorale e culto pubblico la Chiesa Cuore Immacolato non ancora consacrata, di raccogliere offerte in eventuali pubbliche celebrazioni liturgiche che in ogni caso dovranno organizzarsi solo ad opera della parrocchia Santa Maria degli Angeli, unica a essere titolata di qualsiasi attività di religione nel proprio territorio, e ancora di conservare il Santissimo Sacramento e di celebrare la Santa Messa. Nel decreto di revoca promulgato nella giornata di oggi, il presole militese fa tra l'altro rilevare alla Fondazione l'obbligo di attenerse sub gravi alle disposizioni emanate da Papa Francesco. Ma anche fuori dalla Chiesa bisognerà stenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta fatta dal Vescovo sulla vita e sulla virtù, sul martirio e sull'offerta della vita del servizio di Dio, comporti certezza della futura canonizzazione dello stesso servo di Dio. Un chiaro riferimento a Natuzza Evolo, di cui è in corso ancora la causa di canonizzazione. Nel decreto di revoca, Monsignor Renzo sottolinea che entro 30 giorni dalla data di oggi provvederà a trasmetterlo al Ministero dell'Interno per gli opportuni adempimenti civili. Infine, anche alla Segreteria Generale della CEI per la dovuta informazione.